amici del grande calcio bentornati su senza giri di parole io sono biazzacu e io sono nazzuno bella malta è una bella un'isola interessante mi piace stanno belle spiagge un mare bello belle donne si si bello bello meno male che non c'è bel calcio perché stasera non ne uscivamo vivi eh questo c'è da dire stasera è stata un'italia dominante se stessimo 5 6 anni indietro col calcio diremmo un'italia cinica no 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 dai non sono d'accordo abbiamo dominato dall'inizio alla fine 6 1 6 anni dopo 10 secondi però bella parata di donnarumma vabbè parata diciamo 60 per cento merito non fa polemiche tu ma vuoi fare polemiche con donnarumma già si sa va vabbè è stata una grande parata però quell'attaccante non mi ricordo se era jones o satariano però potremmo decisamente tirare meglio però ci sta una grande parata vabbè poi gol di reteghi gran cross di tonali calcio ad angolo bravi disprezzato durante la telecronaca per motivi che io non ho capito non so c'erano interisti forse quei due fenomeni no perché ha giocato bene tonali molto bene vabbè comunque poi gol di pessina mazzoncina fatta ma pessina gli hanno assegnato sto gol si 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 l'ha assegnato lui l'ha assegnato lui anche se troppo fa stata troppo bella nell'intervista che ci hanno fatto a pessina c'è stata la giornalista che a un certo punto quando poi l'ha salutato complimenti per il primo gol lui dicete bla 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 li si salutano giù del collegamento con pessina giornalista fa e quindi in monza ha trovato il primo gol con l'italia il monza ragazzi abbiamo trovato il bomber il monza ormai rappresenta tutto il monza il monza ha segnato ho visto anche per esempio una difesa che mi piacerebbe vedere più spesso vabbè a parte messo un palmiti vabbè scalvini e romagnoli possono essere anche potenzialmente dalla coppia del mondiale cioè vabbè aveva un avversario abbastanza modesti però però sono dei nomi che potremmo vedere in futuro mi ha fatto piacere vederli insieme sì 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 che guarda l'alternativa è venuta avuto l'olio e acerbi insieme quindi sì 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 ci sta mi ha fatto invece pure vedere grifo che vabbè è dovuto entrare per l'infortunio di ignonto però grifo a me è piaciuto me ne aspettavo peggio meglio nel primo tempo che nel secondo però ci sta politano un po' come nel napoli alterna cose fatte bene a cose fatte un po' così e così non riesce a trovare più il gol politano non si capisce per quale motivo non riesce più a segnare cioè quel suo tipico tiro a giro oppure sul primo palo quando entra dentro al campo non lo riesce più a scoccare cioè non viene sempre ribattuto non riesce mai o l'appende o viene sempre ribattuto come se ne sta parlando tanto prova di scamacca e vabbè scamacca è entrato e ha fatto delle belle giocate cioè rispetto a reteghi che si è messo in mostra soltanto con i gol che comunque è un vanto cioè due gol nelle prime due presenze scamacca deve ancora trovare il suo gol il primo gol dalla nazionale quindi significa che comunque il killer instinct l'hai dimostrato scamacca invece ha dimostrato di avere un po' più doti in generale però non ha ancora trovato il gol quindi qua è proprio il il classico dibattito tra gli attaccanti c'è l'attaccante è quello là che ti ruba l'occhio perché magari ti fa il controllo orientato oppure ti fa la giocata sovraffina particolare ha fatto due tre colpe di tacche rovesciata però non è riuscito a segnare contro quello là che magari ha sbagliato qualche controllo non è stato proprio al centro della manovra non ha fatto vedere chissà quale gesto tecnico però da fatto due due quindi chi ha ragione hai posto rilascio a sette hai posto rilascio a sette bravo qua il problema è che non lo so quanta speranza lascia questa vittoria perché è una vittoria che è quasi dovuta non tanto per chi comunque hai perso con l'Inghilterra magari se incontravi la Macedonia nel nord non significava niente infatti avevi perso con l'Inghilterra potevi perdere lo stesso perché questo è probabilmente l'avversario che darà i punti un po' a tutte è molto difficile che il Malta ha riuscito a fare punti con le altre quindi era quasi una mettera dovuta però non è convincente cioè almeno non non completamente quindi è quel tiro di vittoria che tu dici eh ne hai fatta perché sei oggettivamente superiore però non sei a livello per poter competere veramente di per questo questo giro non almeno così sto vedendo che la gente sta percependo questa questa vittoria non non lo vedo proprio un come dire un'interpretazione fallace della situazione perché sicuramente non è una vittoria splendida però è comunque una vittoria che avviene senza essersi presi poi chissà che rischi cioè la partita è stata gestita certo che poi ovviamente devi alzare il livello quando andare ad affrontare l'Ucraina e quando andare ad affrontare la Macedonia del nord o quando tornerai ad affrontare l'Inghilterra è ovvio però non la criticherei troppo come come vittoria perché comunque è una vittoria e la devi sudare beh diciamo che le sensazioni sono abbastanza chiare dal mio punto di vista questo gruppo qui che abbiamo visto in questa in questa pausa delle nazionali difficilmente lo vedremo di nuovo in futuro nei nomi cioè tutti quanti anche perché ci sono dei giocatori che sono infortunati ci sono dei giocatori che non sono stati convocati per dei problemi con l'allenatore ci sono stati giocatori tipo Zaniolo che c'ha questa situazione in Turchia se magari si riprende credo che verrà reintegrato in nazionale pure lui cioè abbiamo un sacco di giocatori tipo Raspadori, Zaniolo, Chiesa, Barella che se n'è andato cioè ci sta un sacco di roba da mettere dentro a questo gruppo quindi difficilmente vedremo questi giocatori un'altra volta così assemblati quindi per quello che cioè la sensazione che mi dà questo gruppo di giocatori è che sono trova traballanti cioè non sicuramente non è il gruppo che magari poi riuscirà a qualificarsi all'europeo e che magari affronterà l'europeo cioè non vedo basi solide sono tutti testi ma spieghiamo eh no non è palese che sia così cioè ci sono troppi giocatori fuori dal giro in questo momento ma lo stesso cioè tutti quelli pure che stanno nell'Under 21 tipo Parisi a giocare come attaccato sì eh poi cioè c'è veramente poco da aggiungere cioè la cosa che mi dà che noto di questa parola di questa nazionale che sì pure con l'Inghilterra abbiamo avuto quel momento dove magari ci riusciamo a dominare ad imporci però manca quel quel giocatore che ti dà quel brio quel qualcosa in più quella giocata che si prende quella responsabilità di osare sono tutti dei buoni giocatori alcuni ottimi però non c'è quel giocatore che e noi all'europeo dobbiamo dirlo ce l'avevamo che si chiama Federico Chiesa Chiesa era il nostro giocatore in più che pur essendo tra i più giovani prendeva palla e andava proprio a dosare adesso manca un giocatore del genere ed è quella la cosa che si nota che a un certo punto sì stai vincendo io almeno dal mio punto di vista stavamo vincendo 2-0 con Malta però non è che stavo proprio entusiasta cioè esaltato ecco c'è poco di cui esaltarsi cioè perché non ti aspetti nessuna giocata incredibile da nessuno ti aspetti solo da una squadra che può giocare bene può giocare meno bene con una certa solidità perché comunque siamo abbastanza solidi però niente di più niente di meno un po' insipida pensa che addirittura in Malta l'ha avuto il giocatore che riprovava tanti drivi quello là Corbalan Corbalan come cazzo si chiamava quello lì un dribblatore cioè se vuole lo facciamo unire all'idra lui Corbalan esterno sinistro mi dice fatto un zocco di drivi ma che bella guarda che sguardo filo bravo ah va bene da retto no va bene non ti ha convinto di sguardo no no non fa niente questa faccia ce l'abbiamo già retegui ok e niente ragazzi questo video finisce qui fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento lasciate un like se il video è piaciuto iscrivetevi attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video forza Italia meno male che stanno per finire sta sosta della nazionale che vero è forse un dito super ill erano proprio più ah non siamo a questi bullilli no c'è un mio slig a un bianato eh non è non è nazionale dobbiamo resistere un altro paio di giorni ma fa male non so che 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 non so che